L'UOMO! Questo mobile internet cambierà la tua vita a me piace per me cambierà le cose che non ti piacciono niente a te, ma tutti i servizi internet che vuoi che tu sia no, continuerà e calcio la pizza e la sezione del cuoio perché è importante Il mondo dimostrerete non tutto quello che ci sta un gelato di Lipton non si sta non è ma questo è dimostreremo il gelato di Lipton Prendiamo una bustina di Deliftone diciamo delicatamente e mettiamo in la guida ridiamo la metallometre e poi strizziamo neanche una forza qui sotto di lì ma lui non va con la parola la parola si barbola un giorno di massi do la conquista nuove cattico web di mt dice ciao il mio nome è me sono la tua prima cliente virtual vivo in questa voce e ogni volta che mi chiamerai sempre un proverso ero al tuo fianco e mi occupo di te e di tutte le chiamate io sono memory sono il nuovo sono la prima virtual person all'estate e tu vuoi essere il primo? base fate scegliere i potenti quando sono in banca per investire devo sempre disperse senza avere un quarto aggiornato così va finché compro alto rendo basso posso perdere perché? perché devo dipendere se da solo faccio meglio e più in fata perché cambio banca se fine eco che mi dà in tempo rete tutte le informazioni che mi servono e devo investire in pochi punti a commissioni nuovissime perché non cambio se posso fine eco the bank